Una volta installato il nostro software è semplice da usare nelle sue funzioni base. È facile da aprire perché troveremo l'iconcina di CamStudio che è sempre questa telecamera bianca su sfondo grigio e una volta cliccata si aprirà questa finestra. La finestra ha nella parte alta tre icone che sono le icone principali, cioè quella di registrazione, quella della pausa del video e quella dello stop. Nell'attimo in cui lo schiacciamo il tasto circolare che solitamente in una modalità stand-by è di colore rosso, questo tasto diventerà grigio, infatti attualmente sto registrando ed è di colore grigio. Se voglio mettere in pausa ma continuare successivamente ad acquisire su un unico file lo stesso video posso cliccare su questa icona dei rettangoli grigi e successivamente poi c'è il quadrato blu che mi permetterà di stoppare il video e che mi darà la funzione di salvataggio del video. Grazie per la visione! Grazie per la visione!